Poi ci saranno anche alcuni rappresentanti di questa nascitura società. E allora andiamo per gradi, proprio Antonio Rosati, imprenditore che si occupa di nautica, di carrelli elevatori ma anche di media. Poi ci sarà Bonerba Nicola dell'impresa di costruzione, l'MG appunto di Paolo Montemurro e poi anche Lista, l'impresa di costruzioni di Matera, la Sideralba di Rapullino del settore siderurgico e poi ci sarà anche Fabio Sferduti che lo conoscete bene, ha fatto parte dell'FC Bari 1908 con Gianluca Paparesta e poi Cippone Marco, commerciante del settore dell'abbigliamento sportivo e delle calzature e poi Aldo Roselli, un ingegnere. Poi farà parte di questa cordata anche l'azionariato popolare di Franco Spagnolo. Dunque, insomma, una società che rappresenta, è vero, l'imprenditoria settentrionale, quella lombarda, ma soprattutto quella locale. E allora, tra poco saranno qui a depositare l'assegno, l'assegno della cauzione, quindi un milione di euro. Come mai un giorno d'anticipo? Perché vogliono dare un segnale forte a poche ore dalla partita. Io sono qui con...